Con Stefano Rabaglietti, allora Raba ottava vittoria consecutiva, il giorno è andata quasi perfetto, stasera però per 30 minuti non è stata una passeggiata? No, non è stata una passeggiata perché uno in derby ci sentivano tutte e due le squadre e abbiamo fatto degli errori in difesa, noi li hanno tenuti in piedi, soprattutto dopo un ottimo primo quarto dove siamo stati molto attenti. Il secondo e il terzo quarto li abbiamo sofferto, nel quarto abbiamo stretto le maglie difensive e infatti si sono visti i risultati. C'è un bel feeling fra di voi, questo giorno è andata con una sconfitta e basta, lo testimoni abbastanza chiaramente, ci puntate a stare lassù fino alla fine e provare a togliervi una grande soddisfazione? Sì, siamo partiti volendo far crescere i giovani del vivaio e poi sono arrivati anche i risultati e allora gli obiettivi sono anche cambiati e quindi di certo non ci accontentiamo di tornare a quello a cui puntavamo precedentemente. Quindi sono contento perché i ragazzi sono bravi, si trovano e stanno crescendo, sono migliorati, ad esempio Passoni, Merlo sono cambiati rispetto alla prima, seconda e terza partita di campionato. Anche Goretti che nonostante si sia rotto il naso adesso è più bello, però hanno dato il loro apporto, infatti si è visto anche senza Puccione in campo, sotto si sono fatti rispettare. Senti, tre partite per finire questo 2015, c'è Ponte d'Era, poi avete Lucca, poi avete il derby con Legnaia, ci guardi già un po' al derby con Legnaia visto come è andata all'andato oppure è un'altra partita come le altre? No, di certo i derby sono sempre i derby, ci piacciono, ovvio, abbiamo l'amaro in bocca perché abbiamo perso l'ultimo tiro e poi dopo nel supplementare sono stati più bravi loro, quindi ovviamente c'è voglia di rivalsa. Non ci sto ancora pensando perché ci abbiamo altre due, però di certo non si tratta mai di una partita come le altre.